Negli ultimi tempi, i fan che seguono la relazione tra Mirko Brunetti e Perla Batiero auspicavano un bacio tra loro due. Invece, a sfiorarsi le labbra sono State, Perla e Greta, le due ex fidanzate del Geffino. Durante una prova chiamata Mikado, Perla e Greta si sono scambiate un breve bacio sulle labbra, qui il video. Questo bacio tra Perla e Greta e il cambiamento di atteggiamento della Rossetti. Dopo i baci tra Rosy Cinefiordaliso e tra Massimiliano e Monia, è accaduto anche il bacio tra le due donne che sono State in competizione per l'amore dello stesso uomo. A parte i baci, Greta aveva inizialmente affermato con sicurezza di non voler riconciliarsi con Mirko, ma nelle ultime 48 ore sembra aver cambiato idea. Greta ha rivelato a Monia e a Rosy che per Mirko sarebbe disposta ad uscire dal gioco, non so cosa pensi lui. Se domani decidesse usciamo insieme, vuoi uscire da qui? Se viene qui e mi chiede di tornare insieme ed uscire, io uscirei immediatamente. Ma se venisse qui e mi dicesse torniamo insieme, ma goditi il tuo percorso qui, io direi di no. Se lui mi vuole e viene a prendermi, io uscirei. Ho sempre frequentato ragazzi molto diversi da Mirko, eppure con lui è diverso. Sento un legame speciale con lui. C'è qualcosa dentro di me che mi lega a lui. È difficile da spiegare, ma c'è qualcosa che sento. Gli dicevo sempre in qualsiasi forma, ti voglio comunque nella mia vita perché insieme stiamo bene. Per questo ci siamo fatti il tatuaggio. Ma la gente ci ha presi in giro e scherzato. Non è solo un gioco, sento un legame autentico. Adesso vorrei sapere come sta lui. Vorrei sapere se sta bene. Se lo avessi qui, gli chiederei subito come sta. Voglio sapere come sta umanamente. Quando è tornato qui, nemmeno mi ha salutato. Questo mi ha ferito un po', ma il legame che sento è forte. Non si rompe per questo motivo.